Chiamiamo l'oratore da Torino, Paolo Fonio, che ci parla dell'interventistica delle vie biliari. Prego Paolo. Grazie professor Colagrande, un grazie sentitissimo a dottor Olivetti per questo invito. A parlare di radiologia interventistica delle vie biliari, che è ciò che forse appassiona di più la scuola che qui rappresento fino a metà degli anni Ottanta, periodo in cui, per scendere subito nello specifico del tema del convegno, cioè patologia infiammatoria e infettiva, c'era molta discussione sul rapporto che esisteva tra il drenaggio biliare e la sovrinfezione delle vie biliari, con molti lavori che sconsigliavano il drenaggio per cutaneo per la possibilità delle complicanze settiche. Noi invece abbiamo sempre ritenuto che fosse il contrario, come testimoniano queste immagini d'annata, direi di drenaggi di colangiti suppurative con grossolane formazioni ascessuali e il tempo ci ha dato ragione, perché come già vi ha fatto vedere il dottor Cengia, le linee guida appena revisionate di Tokyo ci dicono che nella colangite acuta il drenaggio delle vie biliari è assolutamente essenziale e la tempestività dipende, correle esattamente con la gravità del quadro e, sottolineo, nei tipi di drenaggio c'è assolutamente anche il drenaggio per cutaneo. Ma questa esperienza lunga che io vi porto ci ha insegnato un'altra cosa in questi anni, che siccome mi piace sottolinearlo qui davanti al professor Bartorozzi, siamo fino a parola contaria radiologi, anche se interventisti, e quindi ci siamo convinti che per fare qualcosa di buono, al di là del mettere tubi nella pancia dei pazienti, dobbiamo capire quello che stiamo facendo. Quindi il primo passo è fondamentale e secondo me, come meravigliosamente è stato espresso dal dottor Agozzino prima e dei relatori che mi hanno preceduto, dobbiamo capire che tipo di quadro abbiamo davanti e questo lo capiamo dall'esame clinico e laboratoristico e se magari ci mettiamo anche un po' del nostro, anche se siamo radiologi a capire qualcosa di clinica non guasta, e dall'esame ecografico che dovrebbe essere eseguito, questo sì, assolutamente in urgenza, questo è un caso di oltre 20 anni fa, con un quadro ecografico molto suggestivo per una calcolosi intrepatica, associato a un quadro clinico altrettanto suggestivo, un paziente con colangiti ricorretti, l'RCP non sorprende che fosse muta sui dotti che poi in realtà erano pieni di calcoli perché il contrasto non ci andava, ovviamente eravamo in era pre-colangio RM e questo è il quadro della puntura percutanea con il dotto del sesto e quello del terzo segmento stipati di calcoli con poi le procedure che vedremo e la risoluzione del quadro. Oggi abbiamo la risonanza magnetica, come ci ha fatto ben vedere il dottor Agozzino, quindi tutto è più facile, è più facile anche convincere i colleghi che a questo livello e a questo livello vi è un quadro di calcolosi intrepatica con via biliare sostanzialmente normale, le assiali assolutamente necessarie e questo è ancora una volta il quadro di colangiografia percutanea che conferma la calcolosi a questo e a questo livello con la risoluzione alla fine delle procedure. Quando la radiologia interventistica? Vediamo il primo scenario, viabiliari integre. Io credo che la radiologia interventistica dovrebbe essere di prima istanza quando la patologia, in particolare litiasica o comunque benigna che è quella di cui stiamo trattando oggi, coinvolge la confluenza o ci va al di sopra. Io credo che il paziente che ha fatto vedere il dottor Cengia prima con la calcolosi intrepatica fosse un paziente onestamente che avrebbe dovuto giovarsi di una collaborazione percutanea che forse avrebbe potuto evitare le 22 sedute di RCP a cui è stato sottoposto. Quindi un caso di questo genere con una calcolosi impattante a livello della confluenza, io ritengo che abbia indicazione in prima istanza a una terapia percutanea perché un doppio accesso come in questo caso con la possibilità di approcciare, di aggredire il calcolo da due vie può risultare determinante per la sua rimozione. Per quel che riguarda invece rimaniamo sempre nello scenario delle vie biliari integre, la via biliare principale ovviamente il nostro ruolo è relegato ai casi di infallimento o impossibilità del RCP come questo caso di calcolosi con la papilla indovata, si vede bene qui, in un diverticolo che aveva reso impossibile la sfienterotomia a questo livello e questa è la risoluzione della litiasi. Oppure il ruolo dell'approccio percutaneo è nelle conagiti ascendenti post-RCP, questo è un caso di un leakage del dotto cistico post-colecistectomia, aveva fatto un RCP il venerdì, l'endoscopista non era in Molinette, era in ospedale periferico, non è riuscito a mettere l'endoprotesi e questo è il quadro la domenica mattina, qui abbiamo dovuto chiamare il professor Gandini, devo dire la verità, per riuscire a drenare queste vie perché è stata un'operazione tecnicamente molto molto complessa, poi alla fine risolta con il posizionamento di una protesi plastica secondo quanto già il dottor Cengia per approccio ovviamente endoscopico vi ha fatto vedere. Ovviamente poi la radiologia interventistica ha un ruolo come dire assoluto nel caso di vie biliari operate, in particolare di anastomosi biodigestive che possono essere semplici, cioè nelle stenosi delle anastomosi biodigestive che possono essere semplici come in questa giovane donna, quindi non complicate da calcolosi a cui si procede alla dilatazione sia delle stenosi sul versante del dotto epatico di sinistra e di destra sia la stenosi dell'anastomosi biodigestiva vera e propria con un buon risultato dal punto di vista diciamo così iconografico e nel caso specifico anche clinico. Altre volte invece la stenosi dell'anastomosi biodigestiva si porta la complicanza della calcolosi, allora qui il quadro è più complesso e quasi sempre in questi casi è necessario un doppio approccio destro e sinistro per, come nel caso che vi ho fatto vedere il precedente della confluenza biliare, aggredire su due versanti il calcolo e ottenere la litotrissia completa. Facciamo queste procedure in una sala dedicata con un apparecchio di tipo angiografico sotto costante monitoraggio anestesiologico, dal punto di vista tecnico qualche accenno velocissimo, si tratta quasi sempre di calcolosi secondari a stenosi soprattutto nella biodigestiva, quindi la loro dilatazione con cateteri a palloncino di derivazione angiografica è assolutamente necessaria. utilizziamo varie tecniche, alcune anche artigianali, come il lavaggio delle vie biliari con un idrogetto pulsato, quello di derivazione odontoiatrica per intenderci, soprattutto per lavare i doti in questi impietramenti massivi a livello delle vie biliari intrepatiche. Anche noi oggi possiamo fare una colangioscopia diretta delle vie biliari, come in questo caso di calcolosi della via biliare principale, in cui non era risultato possibile un approccio endoscopico, qui il problema era quello di avere un calcolo voluminoso che doveva passare in una via biliare di calibro sostanzialmente normale e allora, non so se riusciamo a far partire il video, ecco, noi possiamo inserire per via percutanea un colangioscopio che oggi abbiamo, un colangioscopio di 8 French, quindi compatibile con gli approcci che noi abbiamo e cercare di frammentare il calcolo utilizzando delle sonde laser che credo siano dello stesso tipo di quelle di cui vi ha parlato prima il dottor Cengia. E questa è la frammentazione e la risoluzione del caso. Noi spesso lavoriamo, come dire, da soli, in particolare nei casi in cui la collaborazione è impossibile, di nuovo un caso di anastomosi biliogestiva stenotica con un impietramento massivo a monte e qui ce la dobbiamo vedere noi. Molto spesso, però, nel nome di quella collaborazione, in questo caso interventistica, di cui parlava prima il dottor Cestari, lavoriamo molto con il gruppo dell'endoscopia, lo facciamo soprattutto, per la verità, nelle lesioni iatrogene delle vie biliari, come in questo caso in cui si ha, vedete qui, poscolecistectomia, una sezione pressoché completa della via biliare principale a questo livello con la fistola biliare qui, e allora un doppio approccio retrogrado ed anterogrado per ripristinare la continuità anatomica della via biliare può risolvere il problema o definitivamente o quantomeno temporaneamente rimandare la paziente a un intervento chirurgico in elezione. Però lo facciamo anche nei casi di calcolosi, questo è un caso che mi ricorda quello che ha fatto vedere prima il dottor Cengia, in cui l'endoscopista ha tolto questi calcoli della via biliare principale e ha fatto la sfinterotomia fondamentale per poter bonificare poi la calcolosi a monte. C'è stata la puntura diretta del sinistro, in questo caso che era quello completamente impietrato e poi anche qui utilizzando la tecnica che vi ho sommariamente descritto, quindi dilatazioni e cateteri a palloncino, si è arrivati direi a un quadro di ottima bonifica della via biliare. Negli anni passati abbiamo fatto anche di più, abbiamo collaborato anche con i chirurghi che nei quadri di calcolosi massiva, veramente impressionante come questo, in una paziente che era affetta da microcitemia, il chirurgo faceva una biliodigestiva e poi anastomizzava un'ansa alla cute in maniera che noi potessimo non bucare il fegato ma bucare direttamente l'ansa e poi attraverso quello sbizzarrirci a portare dentro cateteri a palloncino di grosse dimensioni il colangioscopio, col quale ancora una volta lisare con il laser i calcoli più grossi, vari cateteri a palloncino fino a una, diciamo, colangiografia finale che francamente è abbastanza sorprendente visto il quadro di partenza. Per quel che riguarda le patologie di cui si è parlato anche oggi in fase diagnostica, noi trattiamo spesso, per carità nella loro rarità, a quelle che vengono definite le conagite sclerosanti secondarie, per esempio questa è una paziente che ha sviluppato questo quadro dopo una colecistectomia, sono sfide anche tecniche non indifferenti perché il cateterismo, quindi la puntura di questi dotti è complicata, sono dotti poco dilatati, con una fibrosi periodutale importante, però in questi pazienti riteniamo valga la pena, questa è una donna di età giovane che ancora oggi alla fine con un quadro colangiografico accettabile ha avuto un decorso clinico buono. Vi sono poi casi anche di colangiti acute che abbiamo visto post colecistectomia, questo era un camionista rumeno che dopo una banale colecistectomia, tra l'altro neanche una colecistite di particolare gravità, ha sviluppato questo quadro di colangite acuta con un quadro di stenosi intrepatiche diffuse delle vie biliari impressionante, questo era un paziente già inserito in lista di trapianto che sembrava l'unica possibilità, però con la collaborazione che abbiamo col gruppo del professor Salizzoni, dei trapiantologi abbiamo provato a trattarlo così e anche qui con addirittura un triplice accesso, due da destra e uno da sinistra, alla fine il decorso non solo colangiografico ma soprattutto clinico del paziente è stato favorevole. Non trattiamo di fatto più le colangite sclerosanti primitive perché sono esercizi tecnici senza nessun tipo di trattamento clinico, questi pazienti non hanno risultato, questo è un caso di una colangite sclerosante primitiva associata all'alletto curice ulteriorosa che è recidivata su un trapianto epatico. Per darvi un'idea questi sono i pazienti fatti nel 2013 solo di calcolosi intrepatica nella nostra esperienza, al volo perché stiamo finendo, sono tanti sicuramente quelli trattati su vie biliari integre per calcolosi extraepatiche, ma questo secondo me fa parte di una collaborazione col gruppo degli endoscopisti su cui magari si può poi tornare in discussione. Il successo tecnico è sicuramente molto elevato in questi pazienti, ma chi dice che non ha complicanze in questi pazienti, soprattutto i pazienti benigni con le colangite, secondo me mente. Sul trapianto volo perché il professor Bartolozzi oggi vi ha già detto tutto quello che c'era da dire, questi sono semplicemente i nostri dati dal 2010 al 2013 che abbiamo appena raccolto in previsione di pubblicarli, sono una corte di pazienti abbastanza importante, anche qui ottimi risultati, ma ancora una volta complicanze non trascurabili. Complicanze, vado a finire, che sono nella stragrande maggioranza dei casi complicanze emorragiche, il vantaggio che abbiamo noi radiologi interventisti è di suonarcela e di cantarcela, nel senso che la complicanza la facciamo e nella stragrande maggioranza dei casi cerchiamo di risolverla attraverso procedure di embolizzazione arteriosa, questo era un caso di una calcolosi su stenosi di aranzoni digestiva, immobilia massiva 24 ore dalla prima procedura, questo è il catetere angiografico in arteria epatica che evidenza la piccola lesione in corrispondenza del passaggio del drenaggio biliare, l'embolizzazione con spirali metalliche e questo è il controllo angiografico che dimostra la occlusione dell'arteria a questo livello e poi il proseguimento della bonifica biliare. Io non ho conclusioni o take on message, come dicono quelli bravi, ma volevo concludere con un appello soprattutto ai radiologi più giovani che sono in sala, è vero che questa è una branca forse abbastanza complessa, ma secondo me come tutte le cose complesse contiene un sacco di opportunità e siccome è una branca che per ora è nostra, solo della radiologia nessuno ce la tocca, vi invito a sposare la causa, insomma a tenere alta la bandiera. Grazie.